no alla moschee a sesto san giovanni perché ma il perché molto semplice abbiamo fatto una legge regionale unica regione d'italia che mette delle regole sui luoghi di culto essi siano moschee luoghi di culto cattolici buddisti protestanti luoghi di culto allora mi vengano a spiegare perché se uno non rispetta delle regole vuole comunque aprire un luogo di culto ci sono delle regole rispettino le regole urbanistiche che sono state introdotte con leggi regionali che devono essere applicate e seguite e non fare polemica questo nasce perché sappiamo bene che dietro a tanti pseudo centri culturali islamici ci sta ben annidato il terrorismo di matrice islamica ecco che la lega dice no al terrorismo di matrice islamica e dice sì alle regole chiare certe e rispettate